Eccoci qua a commentare un'altra sconfitta, non è semplice perché comunque penso che la partita anche oggi sia stata giocata alla pari, effettivamente però ogni volta che giochiamo alla pari non riusciamo a portarla a casa, quindi siamo responsabili tutti noi di questa cosa qua, dispiace perché contro una squadra forte comunque ripeto la partita sconfitta è stata equilibrata, ci gira anche tutto storto, nel momento in cui facciamo il regolare, regolarissimo, non ci viene convalidato che avrebbe cambiato sicuramente le sorti della partita e quindi poi al minimo errore perché non abbiamo concesso mille palle e gol a una squadra forte, penso che ne abbiamo concesso un paio e siamo puniti terribilmente, mi dispiace tanto per i ragazzi che hanno fatto una settimana spettacolare, hanno fatto una prestazione oggi comunque, hanno dato tutto quello che in questo momento possono dare e è dura, è dura per tutti ma ripeto siamo duri a morire quindi cercheremo insomma di rialzarci perché lo meritiamo per tutto quello che facciamo in settimana, per quello che comunque anche il campo nelle prestazioni che purtroppo non ci premiano e quindi ovviamente in questo momento qua siamo anche deboli in dare i giudizi perché la realtà è questa qua e ci dispiace molto ma non posso dire nulla per quanto abbiamo fatto oggi in campo per la prestazione ripeto divisa secondo me con una squadra di vertice però il risultato non ci premia quindi siamo ovviamente noi colpevoli.